Sono sei le raccomandazioni per il Green Reporting presentate oggi dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile nel corso dell'evento la Green Economy nel reporting non finanziario. In questo convegno di oggi apriamo il tema del Green Reporting e abbiamo deciso di dare sei raccomandazioni alle imprese Call Green e Go Green per il reporting. Prima raccomandazione è dare più spazio all'ambiente, planet first. Seconda raccomandazione è mettere al centro la qualità ambientale del prodotto e del servizio e non solo del processo. Terza raccomandazione è mettere dei target e degli obiettivi da raggiungere e misurarli. Quarta raccomandazione è misurare la propria azienda in termini di economia circolare. Quinta raccomandazione è concentrarsi sul capitale naturale e sulla biodiversità, quasi sempre è dimenticata dalle imprese. Ultima raccomandazione ma forse la più importante è climate action. La riduzione delle emissioni di C2 deve essere al centro del reporting e delle strategie. Le raccomandazioni finalizzate a fare del reporting uno strumento di strategia sono frutto di una riflessione sui risultati dell'indagine svolta dalla fondazione per valutare le modalità e le qualità con cui gli aspetti ambientali vengono trattati nelle dichiarazioni non finanziarie delle imprese italiane. In maniera molto sorprendente le aziende sono più avanti del mondo della politica e dei decisori. Hanno capito prima insieme ai cittadini che è necessaria una svolta climatica e verso la sostenibilità. Bisogna distinguere le aziende che lo fanno seriamente e sono sempre di più da quelle che lo fanno solo per comunicazione, il cosiddetto greenwashing. Oggi qui abbiamo le eccellenze delle aziende che lo fanno veramente. L'indagine ha interessato 130 imprese delle oltre 200 obbligate a rendicontare informazioni non finanziarie. Queste imprese sono state interrogate sulla base di una griglia di 86 indicatori chiave, focalizzata su indicatori ambientali quali abbattimento delle emissioni, efficientamento energetico, gestione circolare di materiali e rifiuti, criteri di green procurement, tutela del capitale naturale e biodiversità. Vere protagoniste della giornata sono state però le imprese che hanno condiviso le proprie esperienze sulle buone pratiche di rendicontazione green. Noi abbiamo iniziato questo percorso di rendicontazione non finanziaria, ovviamente al di fuori di quelli che sono gli obblighi di legge oggi previsti nel 2004. Nel 2004 è stato il momento in cui abbiamo presentato il nostro primo rapporto di sostenibilità. Abbiamo ritenuto che fosse un modo per presentare sostanzialmente al territorio, Gli stakeholder, chi sono gli stakeholder? Uno degli stakeholder è sicuramente anche il territorio nel quale operavamo, la nostra esperienza. Ecco da lì, dal 2004 ad oggi c'è stato un successivo continuo tentativo di miglioramento di questo rapporto che si prefigge di raccontare quello che noi facciamo, ad esempio in termini di risparmio della CO2, circolarità della nostra produzione, risparmio dei consumi energetici dei nostri impianti. È un'esperienza che credo sia obbligatoria per aziende come le nostre, che come dice Edo Ronchi siamo aziende core green, cioè che facciamo dell'attività ordinaria di trattamento, nel nostro caso dei rifiuti, la trasformazione di questi in una risorsa.